ciao a tutti amici e bentornati anche oggi in questa nuova puntata sul mio canale mi sto colazionando proprio in questo momento tra un po mi vestirò perché dobbiamo andare ad un matrimonio ed oggi verrete con me no Siamo appena arrivati all'hotel e al ristorante Centro Benessere, la Fracanzara, sono tutti qui che ci aspettano per un brindisi di benvenuto. Siamo appena arrivati all'hotel, siamo appena arrivati all'hotel. Grazie. 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 Sto stampando un po' di bigliettini da visita qui in Villa Sorio per farmi un po' di pubblicità sul canale e niente, tra un po' è pronto da mangiare, anche se il buffet sembra veramente incredibile, c'è spazio ancora per il pranzo. Stiamo intorno adesso in Saga. Sto arrivando la seconda portata. 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 Grazie a tutti. Bene ragazzi, la serata è finita, il matrimonio è stato veramente grandioso, una festa meravigliosa, si è mangiato alla grande. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 17. Ciao a tutti! Grazie a tutti.